Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Avengers Marvel Andiamo pure avanti Dove scassare un po' di culi Certo, cattiveria Ok Premi B per schivare, ok, possiamo schivare Perfetto Ok Un attacco da lontano, non è che si può, potrebbe avere magari Ok, premi Y Bello l'attacco pesante Com'è cosa faccio? Schivo, con assalto Ah, bella questa, mi piaciuta Perfetto Dimmi qualcosa Tieni premuto Y per eseguire un attacco caricato Per sfondare la barriera Gerica, che cosa di roba Sarà divertente Vero? Per mirare Ok Beh, questo è bello Oh Aspetta, quelle armi appartengono allo shield Provo a contattare il comandante Ivo Cap Hanno scelto proprio oggi per un motivo Lo penso anche io, Bruce Resterò sulla chimera finché non avremo scoperto che succede Ora ti prendo, ti massacro Aiutami, ti prego Sì, sì, arrivo Chi è? Chi è? Fate un attico, va Devo anche un attimo Prendermi conto E Tor Tor Grazie State giù Rinforzi in arrivo Che che mi ha chiesto aiuto prima Porca miseria Non è che Uccidete il dio C'era qualcuno qua Porca miseria Non mi sono accorto Ok Che cosa prendita Lui vola poi Ancora più bello Cisci, te credevi Oh cavolo Oh, botte Da urbi d'urbi Chi ha detto che potevi prenderti tutto il divertimento? Chi l'ha detto? Premi LB per usare una mossa eroica La miserica Sì, mi ricordo Io mi ricordo Di queste mosse qui Piccidenti Quello è stato notevole Ok Questa? Che mossa è? Bella, interessante Questa è? Non si prende? Non si può prenderla Peccato Oh Degli scudi Bizzarro Vero? Pensavo prima anch'io Vai Ah Ma me l'ha messo proprio dietro Insomma Vai Vai Perfetto Eh adesso questi chi Oh Così Li abbiamo presi Ah mi dispiace tanto Vedete Queste qui si possono prendere Non so cosa siano Quindi va Oh Quindi adesso Diciamo lui Ho appena ricevuto conferma Stamattina hanno rubato un convoglio Scelta È uno di quei brittin mattutini di fiori Che non leggo mai? Dai Tony Sono importanti Ok Come vuoi Scusate ci sto provando Ma col joypad È proprio difficile Deve usare Usare ma la scastiera C'è da fare Eh 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 Vabbè allora Se li hai costruiti te Vediamo se Diciamo a prendere l'ultimo Dovremmo mettere in sicurezza Il cristallo terrigeno Se dovessero colpirlo Sono già all'opera Dottor Tarton Sta scendendo Nella stanza del Redford Sì senti Ma fatti solo Stati al riparo Ok Chi di voi Comparse da film Di serie B Mi ha sparato E quindi RB Giuseppe Quello raggio protonico Porta prototipi Shield e segreti Fury sta cercando L'elenco di carico Completo Il Come sta il fogato Dia Fury che adoro Farmi sparare addosso Con le mie stesse armi Vabbè Vi terremo aggiornati E gusta bene Io Non lo sapevo Che stessi ancora Ascoltando Che figura di merda Vediamo un po' Mi aspettavo Che questi idioti Si fossero dati Alla fuga Ormai Ho l'impressione Che non abbiamo Ancora visto Già Sta succedendo Qualcos'altro Qui Ok Ok Oh 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 Chi è che rompe Adesso ci spacco I quattro Accidenti Di chi è stata La brillante idea Di dotare I canyon shield Di torrette Infatti Oh giusto Via Vediamo un po' Ci può chiarire Tutto i culi Adesso appena Non sembra Facilissimo Governare Sto coso Allora Vediamo un po' Si ci sto provando Ci sto Provolando Dami un attico Va che Insomma Ok Altri Vai Perfetto Oh ma c'è Un altro Perfetto Si si E porca vacca Raggio protonico Che è mazinga Cosa Girobo Non è pronta Per volare Perché si muove Qualcuno ha avviato I protocolli di sicurezza L'autopilota Della chimera È inserito Servono rinforzi Rientriamo Negativo Proteggete il ponte Quelle armi Non devono entrare In città Ricevuto Tocca a te Bruce Vabbè Sì Sì Si Si è un po' Ingrandito Lessa Seria Urk Spacca Non me lo ha detto Non me l'ha detto Ok Vediamo di Cercare di evitare Ecco Direi che Gli ho fatto un po' Malo Cosa dite Vediamo cosa posso fare Spacca Ok Ok Che bella cosa Cosa devo fare Adesso Devo andare qua Io vado Eccoci qua Mamma mia Urk Che potenza Inallata Questa sì Che potenza No Mi dispiace Porca miserica Devo fare un salto così Ecco qui Eccoci Vai Eccolo qua Oh Oh Eccoci qua Ulk Spacca Oh porca miserica Oggi mi aspettavo più fanclubs e fristelle Eh dici Non entra titoni Ok cerchiamo di Vai ulk 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 Vai La miserica Cos'è Luccia l'oscia Odei Come sta andando E insomma è un po' di schifo Se non li fermiamo potrebbe crollare Sbrigati bestione Eh Non resistere ancora a lungo Ulk Spacca Lb più rb Vai Seria È un abbraccio coloroso Questo Dove è in bestione verde Lo vedo Sto arrivando Ok mi è mancato Ulk Spacca Ulk Spacca Ok dimmi cosa devo fare però Eccolo lì Preso al volo proprio eh Un'accidente Una mentina però Insomma Le tue invenzioni sono pericolose Stark Ehi Quelle arvi erano per i buoni Pensi che si tratti di un gioco Non è il momento Concentratevi ok Oh cazzarola Cap Cosa succede lassù Non lo so Un malfunzionamento del reattore Le rilevazioni sui monitor sono strane Pare che una fonte di calore ci attiri Giù Nat Distruggerà la città Ripeti Cap Non riesco a Sentire Nat Mi ricevi Ale Usiamo Cap RB vai Miserica YPB Attenzione La chimera è sotto attacco Evacuati i civili Però Granata Eh ma l'ora Come cavolo facciamo Beh sto dando tutta adulta a 120 fps Non è mai R R R Trigger Per bloccare Ok Ti do anche le botte Siamo isolati Oh cavolo Sì arrivo Eh appena di capire bene le mosse arrivo Ah qui posso tirare giusto il Ti è piaciuto? A me è piaciuto tanto Oh ma questo scudo è da panico Vediamo cosa posso fare Viene premuto B Oh interessante Mi sono andato dietro Scusate Allora Così Ok Ce la farò A prendere sto cacca Cazzi Oh B Per la direzione Ok Avevo quasi capito Come fare Ok Perfetto Adesso non ricorderò mai Tutte le mosse di tutti quanti Eh però insomma Oh salve Ok Sì sì Proprio aspettavo che tu me lo dicessi Per fermarmi Tieni B Premuto B Ok Adesso ci arrivo eh Vai Ok Eh Perfetto Miserica Vai Porca va Mi sta facendo Un culo da panico Ok Ok Aggiornami Quel reattore non si stabilizzerà La struttura molecolare del Terrigen Si sta scomponendo in un gas Qualche cosa là sotto Sta inviando energia al reattore Ed è Estraordinario Fantastico Adesso devono arrivare quelli Ti richiamo Eh Già La nave non resisterà ancora a lungo Non ci bisogna Se poi ci metto Ci metto anche il mio Dove siete? Tarton Tarton Avengers Li sentite Oh la finisce Che sta succedendo là fuori Bellissimo Ok Dove devo andare? Rapporto Ah ancora da questo? Miserica Che botta da panico Ok Andata E E chi? RB più RB Vai Cienti Avengers Se mi sentite il convoglio Trasporta una bomba A distruzione sonica Altamente letale Perfetto Il piano dei nemici È di farla esplodere in città Precipitiamo Già Lo ripeto Abbiamo una bomba sonica Andate a recuperarla subito Fantastico Che cazzo Questa è finita Wow Bomba sonica Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero evvietate Diamo un'occhiata Va bene? Fantastico Quella si chiama entrata Però E questo chi è? Chi è? Skeletor? Mask Master Ah Prendiamo il detonatore Se esploresse potrebbe sciogliere tutto nel ratto di 20 km Beh Cosa stiamo aspettando? Fantastico Tony Thor I cavi Io penserò al pazzo con il detonatore Tu? Ah Siamo al posto Da un ex agente Scelta all'altro Stammi dietro Eh Che cazzo Sì sì Sto dietro Scelta Perfetto Perfetto Ah sì Te ne faccio vedere uno io Si chiama a darti una lezione Ok La base del ponte è sicura Andiamo qua Siamo attenti Va là Che botta Spacca Ragazzi Ricevo delle strane rilevazioni sismiche Tony Il camion Ricevuto La cazzo La cazzo No la Hai pane? No Questo lo prendo io Però ce l'ha fatta alla fine È stata brava Sai Speravo di affrontarti Bufo Io invece non ho mai ripensato a te Partito Però Non male Ok 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 All'accidenti E vai Si vuole di nuovo Eh Sono gerato Non importa Ora ho questo Maledizione Ti raccolate Eh Ops Trovarti Stai prendendo I soliti appunti Oh Sofia Più combatto Più apprendi Giusto Si chiama Zero originalità Incidenti Ah Ricarica Ahia Ah posso anche Dargli calci da panico Ok Perfetto Accidenti Ma quanto cazzo è tosto Tosto parecchio Vai Ok Accidenti Il tuo balletto Finisce qui Oh cazzarola Oh cazzarola Ah Prima di punto RT Che Trigger C'è il giogetto Di destra Per contraattaccare Gli attacchi blu O giallo Corro più di Voidov Ok Tutto claro Ok 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 Dici Accidenti Dove cazzo è finito Ok Vediamo un po' Oh cavolo Ok Perfetto Vai Ok Perfettico Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi? Ti arrendi? Non se ne parla Allora A cosa hanno portato le tue indagini? So che non sei il cervello dietro l'attacco E che questo puzza di diversivo Basta parlare Left button Vai Codarta Che c'è? Non ti piacciono le sorprese? Però La prossima volta Prendi appunti migliori Avevi previsto anche questo? Pensavi di aver vinto Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno Romanov Il mondo si ricorderà di questo giorno Il giorno in cui i loro eroi Fallirono Che sta succedendo qui? La città collassa Maledizione Una trappola Steve Puoi sentirmi? Vattene subito Beta Al diavolo Perfetto No Cinque anni fa Gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata Causando una quantità di danni mai visti prima Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia Migliaia di persone innocenti sono morte E molte altre portano ancora le cicatrici di quello che oggi conosciamo come Hey Day Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli Per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali Senza alcuna cura la malattia si è diffusa in tutto il paese E mentre sia lo shield che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione La testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos Molti dormienti e non identificati Quindi le ripeto la domanda dottor Banner Gli Avengers sono un pericolo per la società? Sì Dopo essere stati dichiarati fuori legge il gruppo di eroi si sciolse In verità molti di loro se ne erano già andati Con la liquidazione della Stark Industries Il dottor George Tarleton una vittima degli avvenimenti delle Hey Day E fondatore delle avanzate idee meccaniche Pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese Vorrei tanto sapere cosa è successo al capitano Rogers Ma non ero vicino alla stanza del reattore Non ho risposte quindi ma posso promettervi questo Io userò questa mia seconda occasione per rendervi più sicuri L'I.M. riuscirà a trovare una cura alla malattia degli inumani Parole che saranno di conforto alle famiglie distrutte dalla malattia Pecca forse di arroganza? Sono in molti a criticare l'I.M. La cosiddetta resistenza diventa ogni giorno più numerosa Io sono Phil Sheldon In diretta per l'anniversario delle Hey Day Non riescono a vedere la rivoluzione sotto i loro nasi Avanti Dove siete finiti? Ci deve pure essere un indizio Ma ciao Se riesce a indovinare copia tutto quanto Contatto io Ora si ragiona Oh Un vecchio sito Stark Hai un attimo per me, Beta? Sì, certo La partenza per il ritiro della moschea è tra un paio di ore Puoi ancora raggiungere le altre all'autobus Era oggi Kamala, abbiamo già discusso Il ritiro è una buona occasione per tirarti fuori da tutto questo Respirare dell'aria nuova, ridere Nakia resterà molto delusa se non ci andrai Hai ragione Ci penserò Bene Molto bene Ci sarà il gelato Oh, meglio ancora, niente ragazzi Solo divertimento Ti voglio bene E io di più Ma non capisci Ok Dove eravamo? Suggerimento password Il primo amore Oh Cosa? Cosa? Forza Kamala Ci puoi riuscire Oh, giusto Cavoli Forza ragazzi Non ci credo Non può essere Che c'è da fare Oh mio Dio Sono dentro Sono dentro Non ci credo Oh Sì Copiare Copiare tutto Sì Ha benedetto l'ego smisurato di Tony Stark Che succede? No 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 Ah Bloccata Ma ho copiato qualcosa, lo so Vedrò al quartier generale Ho sollevato un bel vespaio Devo andare al quartier generale E scoprire cosa c'è su questa chiavetta Bene ragazzi Direi che ci possiamo anche fermare qui Per questo video è tutto Vi invito come al solito Salve un like Un commento Se vi piace la serie Di farmi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi invito a scoprire la Siva Ciao ciao